Caro Dal Diario Oggi sto ammazzando il tempo sui social Ma che ca... E questo? Chi è? Lo trovo davvero irritante E anche gli assaltatori Che non ammazzano i rebelli ad un metro di distanza Sono più inetti La prima cosa che farò Finita la quarantena sarà Distruggere la terra